Io in realtà non ho un intervento preparato, solo che ascoltando le cose, dopo Antonio mi ha punzecchiato. Eccomi qua a dire un semplice aneddoto di uno dei diecimila che però ci tenevamo anche un attimo a fare. Perché una delle interviste che sono state proiettate prima veniva in una fase nella quale anche noi ci approccevamo col metodo dell'inchiesta. Uno dei metodi dell'inchiesta rispetto a quello che era un fenomeno sociale, politico, che si stava dando in Francia, che era la questione dei gilets jaunes. Lo posso raccontare in prima persona perché per altri motivi eravamo a Parigi in quei giorni, eravamo io e un altro compagno per motivi lavorativi là. Ovviamente ci siamo anche interessati di voler sentire cosa ne pensasse Tony e con lui. In realtà più che parlare di gilets jaunes, l'intervista l'abbiamo vista, abbiamo parlato di tutt'altro. Siamo due figure che non arrivano da un percorso di studi accademici, arrivano nel pieno della loro militanza fin da giovani qua dentro, dentro le esperienze dei centri sociali del nord-est ed eravamo un po' come dire atterriti dal dibattito che si sarebbe potuto creare. Però addirittura l'altra persona che non è qua con me aveva quasi un po' di reverenza nello stesso momento di dover discutere alcuni anche passaggi storici della nostra organizzazione, altri elementi che non si davano solo dentro l'intervista stessa che abbiamo fatto. In realtà nel metterci a nostro agio con due battute in dialetto, perché comunque questo è stato un aneddoto particolare, ma che esemplificano anche la capacità di utilizzare le diverse forme del linguaggio per la comprensione e per la discussione che si può dare, ci chiese che cazzo ci fate qua, cioè non al netto dell'intervista, ma che cazzo ci fate qua perché avete deciso di essere qua. Noi abbiamo spiegato la questione del lavoro, in realtà abbiamo parlato di un'altra cosa che portiamo dentro, secondo me, la nostra storia, che è anche grazie a Toni, ma non è sicuramente solo grazie a Toni, ma a tantissimi altri compagni e compagne che sono arrivati prima di noi, che sono ancora qua nei processi di attivazione del movimento, che è la questione della liberazione o il tentativo di organizzare nelle diverse forme, momenti, laboratori, cooperazione sociale, impresa sociale, che cerchi di liberare i compagni della questione lavorativa per permettergli il tempo alla militanza. Questo è stato in realtà il dibattito che abbiamo compiuto ed è un dibattito che tuttora per noi è fondamentale nelle mura di questo centro sociale e nella nostra esperienza. È un dibattito che è ancora vivo, forse anzi dovrebbe essere riattualizzato, dovrebbe essere ripreso con forza. Ci sono diverse progettualità che si possono dare, ci sono diverse progettualità che sono state create, alcune che sono fallite, altre meno. No, gli parlavamo, eravamo a lavorare in fiera, ho detto ma come siete arrivati a lavorare in fiera? Beh, pensa, abbiamo ereditato una cooperativa della quale non faccio il nome perché, insomma, visto che abbiamo parlato, spesso la figura di Negri viene associata, quindi non faccio neanche il nome, però gli dicevo, pensa, l'ha fondata Gianni Boetto quella cooperativa. Quindi è stato divertente ma allo stesso tempo è stato indicativo. Gianni e altri compagni e compagne, qua c'è qualcuno, vedo quel dito che lo rivendica, ma al netto dell'appropriazione perché non è di nessuno, perché si chiama cooperativa appunto, è stato molto illuminante. Questo è stato quello che mi sono portato a casa io personalmente e non posso parlare per l'altra persona, ecco, ci tenevo a fare questo intervento perché è ancora un compagno militante attivo che come tanti di noi subisce le delazioni dello Stato e da ieri è iniziata una misura di arresto domiciliare per otto mesi, vorrebbe essere qua, probabilmente facciamo in modo che la prossima volta ci sia anche lui o che possa lasciarsi uno sguardo, quindi era giusto dirlo e speriamo di vedere Enrico presto libero tra noi. Grazie. Grazie.